Il nostro viaggio tra le particolarità di Rapallo ed Intorni continua a Sergio Rossi a qualche chilometro dal mercato di Rapallo che abbiamo documentato in compagnia del signore che si chiama? Enrico Bellardini E parliamo di prescincea perché è un valore importante anche per quello che già abbiamo raccontato Rossi Certo, sì, è un valore importante perché poi lo utilizzano in tantissime cose fra cui i panzotti e la salsa di noce Ovviamente non per i dolci che abbiamo appena visto su cui ci siamo dimenticati però una precisazione Sergio Rossi Sì, loro volevano puntualizzare un dettaglio di carattere tecnico cioè che non è marmellata ma che in realtà è confettura di mele cotogne perché le marmellate sono solo quelle di agrumi e poi che quel tipo con quella esatta forma di formina per i cubeletti pare sia introvabile, l'abbiano solo loro l'abbiano trovata solo loro, a Genova sia ormai introvabile e siano fatti leggermente differenti A poca distanza dalle vacche del signor Enrico, quante per la precisione? Sette Sette, ripartite come? Cioè, quattro mucche, due torelli e una manza Un torello discolo, però Raccontiamo l'arte della prescincea che Sergio Rossi più volte ha già sottolineato ma davanti a questi ingredienti cosa dire al pubblico a casa? Dire che la prescincea artigianale si fa in questo modo, come ci fa vedere il signor Enrico Come Enrico? Si mette il caglio in un po' d'acqua tiepida Caglio o quello che è saccata in farmacia? No, quello in farmacia è chimico Questo qua è di stomaco di vitello Stomaco di vitello, ok Vedevo che saccatesse anche questo in farmacia C'è l'hanno liquido ma Ok, quindi in pasta, caglio in pasta Sì Quando è sciolto si versa nel latte Si versa nel latte? Sì Lui usa il colino perché se ci rimanesse qualche granetta o quella non si scioglie bene Puoi se che mette anche un po' di cagliata Quella è prescincea che se ne mette un pochino che fa da start, ragazzi Cagliata sarebbe per? Cagliata starebbe per latte cagliato ma in questo caso è già anche fermentata Quindi è già prescincea Perfetto Quindi lui ci mette un goccino di prescincea E si lascia 24 ore Temperatura più o meno ambiente? Ambiente, sì D'inverno si scalda anche un po' il latte appena appena se è freddo Poi questa è venuta dopo 24 ore Questa è ancora la massa caseosa divisa con... Viene il siero sopra e si versa a colare il cuscino Perché ha usato... usa questo... Usa tela perché se no va... passa... nel colino passa perché è troppo grosso E si lascia lì... secondo... io per dire la mette a colare alla sera al mattino la levo Ho capito... Naturalmente più cola e meno acqua vendi Quindi loro la fanno bella asciutta Però quando è tanta asciutta non va bene nemmeno... Nemmeno... però cuscina le sa ben bella E quindi il risultato finale... È questo... È quello... Noi l'abbiamo vista anche al mercato Sui banchi del mercato all'inizio della puntata Dove lei porta la prescensione a che farti generalmente Ma porta anche il frutto dei suoi orti Quindi al martedì e al sabato Lei è presente sul mercato di Rapallo Con frutta, verdura di stagione E prodotti derivati dalle mucche Ma non al mattino presto Perché al mattino presto A differenza degli ortolani che fanno solo quello Lui deve prima accudire gli animali Quindi non ce la fa arrivare a mattino Perché è pigro Non ce la fa arrivare a mattino presto Perché è da solo E le vacche se le deve mettere a posto Quando ha messo a posto tutti gli animali Arriva al mercato Non siamo esattamente due che partono Notoriamente da Portofino e da Santa Magrita Ma il posto qui è ben ben impressionante Ebbè ma d'altronde il bello che secondo me è proprio quello Come è arrivato qui? Cercavamo... perché prima eravamo più in là Più in alto avevamo l'acqua del fiume uguale E cercavamo un posto che ci fosse l'acqua per bagnare E è uscito questo posto qua Che siamo precisamente dove? Come lo chiamate questo posto? Siamo al confine del comune di Rapallo Sì, però qua ci dico Perché c'è una fontana lì nel fiume Ci dico che ho da un fontanino Quindi anche una stagione di grande siccità Come l'estate alle spalle? Non asciuga mai il fiume Io sono qua dall'80 Mai visto sempre Quindi anche per gli ortaggi è una cosa buona Perché l'etame ce l'ha in casa La terra è lì L'acqua è qui Poi ci vuole lui che la coltive Come si riconosce la prescincea giusta? Deve essere così Io ho visto quella che vendono Dei casei fici che è molto come a Pabro E invece questa Questa è una crema, vedi? Quanto riesci a farne? Quella che serve Sì, che mi richiedo Senta un po', ma una cosa sì Questa sì Come si fa a sapere Il punto giusto Per levare Dalla colatura? Perché voglio dire Poi a un certo momento Io mi ricordo Che questa comincia a acidificare No? Sì Poi quando comincia a acidificare Fa super di Se io la lascesse Avegna sempre c'è acido Invece ne ha fermata A un certo momento Sì Come si fa a saperlo? Metterla a colare Sì E io ce la lascio 24 ore E poi oramai quello lì È il tempo giusto? Beh, io faccio tutto a occhio A occhio Non ne peso Ne misuro niente Però Praticamente in cima Viene sul siero E il latte Fa come Se si tocca col dito Fa come una crosta Invece quando fai il formaggio Lo levi prima Perché deve essere dolce E non lo fa Viene Viene compatto Però non lo fa Quando invece viene Che è pronta Fa come una crosta La senti col dito Senta ma lei Avesse 20 anni Lo rifarebbe questo lavoro? Sì Delle volte Dico che dovrei scappare Però lo rifarei Questa è la migliore cartolina Non c'è dubbio Andiamo a parlare di Prevugiungo O ha qualche domanda ulteriore? No, no, no Io poi una volta Che voglio importunarlo Vengo qua Mi siede un po' lì Facciamo due discorsi Con il signor Bernardino Dipende se l'accetta E se non mi accetta Di bacchi Che ne chiudere Di bacche Semmai vago Ricco grazie Davvero Grazie Ricco Dopo lo stacchetto Di Massimo Fornaser Andiamo a parlare Di un altro Prodotto top Come direbbe qualcuno Il Per concludere Il ciclo legato ai prodotti Del territorio a Rappalle ed intorni Il Prevugiungo Sergio Rossi Già citato inizio di trasmissione Con la signora Iva Due generazioni di differenti Però adesso ne parlano Perché con noi c'è Marco Fossati Che è un giovane Sergio Rossi Evidentemente Molto ferrato in materia Anzi La sua tesi di laurea Ruota intorno al Prevugiungo Sì Peraltro Laurea In erboristeria Almeno se non ho capito male E fra l'altro C'entrano tutti Perché credo che la Iva Sia uno dei suoi testimoni La Linda Sacchetti Sia con lei Che comunque in qualche modo Ha dato una mano Quindi ci sono un po' tutti Gli attori di Rappallo E c'è anche la signora Che avevamo conosciuto Nel marzo scorso Tra Varese La Valdivare La Canepa E Chiavarese È andata per noi A raccogliere Il Prevugiungo Cosa aggiungere Rispetto a quanto detto Da Iva Ma soprattutto Vista con gli occhi Di un giovane Com'è questa storia? Il Prevugiungo Io l'ho conosciuto Diciamo Non per tradizione familiare Come è capitato A molti Che sono magari Nati nell'entroterra Io invece Essendo nativo De Caruggi Di Genova Proprio del centro storico L'ho incontrato Per passione E per ricerca Quindi Quando mi sono iscritto A Scienze Erboristiche A Pisa Dove poi mi sono laureato Mi sono chiesto Come posso portare Una parte di ricerca In un aspetto tradizionale Quindi anche come recuperare Qualcosa del territorio E da lì Grazie all'incontro Con Linda Sacchetti Pian piano Si è creato Un po' questo quadro Diciamo E tu Il Prevugiungo L'hai studiato Sotto quale luce Sotto quale veste? Allora L'ho studiato Intanto Cominciando a indagarlo Con le persone Che lo raccoglievano E lo raccolgono Per tradizione Poi Oltre a questo Grazie a In particolare A un professore Che si chiama Camangi Che è aspetto In etnobotanica Ho messo insieme Diversi elementi E utilizzando anche Dei libri Di etnobotanica Della Valdivara Del Golfo Paradiso E di altri luoghi Sono arrivato A studiarlo Da una parte Sia tradizionale Sia più scientifica E moderna Scoprendo che cosa In estrema sintesi? In estrema sintesi Che il Prevugiungo Non si mangiava E non si mangia Solo per necessità Come si diceva una volta Ma che si tratta Tutti gli effetti Di un alimento Nutraceutico Cioè di qualcosa Che sta a metà Tra l'alimentazione E la salute Considerazione di Sergio Rossi Ma anche una curiosità Anzi più curiosità Raccolte in questo cestino O cavagno Anzi dei fungaioli Perché cosa c'è qui dentro? Allora questa è stata Una raccolta così al volo Intanto che ci stavamo avvicinando Ho raccolto una pianta Che non sempre viene riconosciuta Nel Prevugiungo Ma che invece Ne rientra a tutti gli effetti Che è la valeriana rossa La Centrantus ruber Che è chiamata anche Erba da vacche Diciamo Quindi è una pianta Usata per ingrassare Le mucche e porci Ma in realtà È una pianta buonissima Anche cruda e cotta Nel Prevugiung E poi? Poi abbiamo Il finocchio selvatico Le cui foglie venivano usate Vengono usate Nel Prevugiung Mentre i frutti Che sono quelli che di solito Chiamiamo semi Ma in realtà Sono i frutti del finocchio Vengono usati Sia per fare il pan dolce Come ben sappiamo Sia per digerire bene Per tutto quello che è la salute E anche delle vie respiratorie C'è ancora qualcosa da citare? Da citare direi Un'altra molto bistrattata Di solito Che è la canigea La parietaria Officinalis Che si chiama officinalis Proprio perché Era una pianta salutistica In realtà Oggi è un po' infestante E alcuni provoca Delle allergie Con il suo polline Ma in realtà È una pianta utilissima Al pari dell'altra bistrattata Che è l'ortica Come depurativo Oltre che Erba vetriola Quindi utile anche Per pulire damigiane Bottiglie di vetri E queste rientrano Nel Prebujung? Queste si Rientrano tutte Nel Prebujung Quindi Rossi A sentire Iva A inizio della trasmissione Ne mancherebbero 21 Perché lei ha parlato Di 24 piante A inizio della trasmissione Sì Il numero Di quelle che indica Iva Sono 24 In realtà poi È un vezzo Quello di indicare Un numero Perché poi alla fine Dobbiamo tornare Un attimo indietro Se vogliamo veramente Capirla questa storia Dobbiamo tornare Alla trasmissione Della tradizione Fra uno e l'altro Per esempio Io ricordo di avere Intervistato una signora anziana Di cui abbiamo parlato Anche assieme Delle mie parti E lei mi diceva Che da bambini Una delle prime cose Che gli insegnavano Sono le piante Simili a quelle buone Ma che invece Sono tossiche Cioè la prima cosa Che ti dicevano È quella lì Ricordati che non devi Toccarla Perché quella fa male Ma è uguale a quella là Simile Quindi Noi dobbiamo partire Da quell'idea lì Non da un'idea Diciamo così Enciclopedica Perché lì di enciclopedica Non c'era niente C'era semplicemente La trasmissione Della tradizione Poi oggi Ci sono questi Che le generazioni Questi Gentilmente Amichevolmente Che la sono studiata Dall'altra parte Per dire Sì ma questi Quelli di prima Erano solo Così Abelinati Oppure c'era Tutta una scienza Che si era diffusa E sì c'era una scienza Che poi loro oggi Dimostrano a livello scientifico A proposito di tradizioni Se posso dire La vostra generazione È stata quella Forse colpevole Di aver perso per esempio Il genovese o i dialetti La nostra generazione Temo fortemente A parte casi rari Sia quella che perde Il valore Della conoscenza Delle piante Del loro beneficio Forse anche per quello Va evidenziata L'iniziativa Del nostro neolaureato Perché tu hai fatto Qualcosa di particolare O raccontiamo Tenga conto che se Averla recuperata Significa Le belinate Del foraging Di queste stupidate Qua Da 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 Donzellette Che vengono Dalla campagna finte Per me la possiamo Pure perdere Se invece La vogliamo fare A questo modo Dove le persone Nonostante abbiano Una base scientifica In tutta semplicità Ci raccontano E ci dicono Guarda Questo è questo Ma loro però L'hanno sentito I vecchi Non è che sono andati A studiare E basta Allora quello mi piace Il resto Quelli sguazzanti Che poi fanno Il foraging Non mi interessano Con tutto rispetto Anche se non sei d'accordo Dì sì Perché diventa cattivo Sennò Sì No Però Capisco bene Cosa intende dire Sicuramente Il fatto che ci sia Questo interesse Forse può aiutare Anche a recuperare Un patrimonio tradizionale Però bisogna recuperarlo Perché sennò Si perde anche La biodiversità Che è uno degli elementi Fondamentali Del pre-boujun E che ci può aiutare Il gioco delle carte Per i bimbi Ah il gioco delle carte Che abbiamo visto Prima fuori onda Diciamo che forse Sarà in sovraimpressione O non so come si dice Si dice proprio così Ok Si tratta di un gioco Chiamato la carta persa Che serve per avvicinare Bambini e anche adulti Che anche loro Possono giocare Al mondo delle erbe E fa parte Di un progetto più grande Che è quello Di un'associazione Chiamata il limone lunare Che ha sede In via della maddalena Ma che si espande Poi sul territorio Soprattutto spiega ai bimbi Cosa sono le piante Come si chiamano soprattutto Sì Come si chiamano Le proprietà E lo si fa in un modo giocoso E quindi Mi piace sempre portare Questo approccio Sia con gli adulti Che con i bambini Di mantenere sempre Quello che è una Serietà anche O scientifica O comunque di conoscenza Ma con l'aspetto Anche della leggerezza Di qualcosa Che è bello fare Non diciamo Imposto Fine? Se posso aggiungere Un dettaglio Che glielo dico Così lo sa anche lui Un mio caro amico Che purtroppo Non c'è più danni Alberto Callero Detto Bertini Di Montoggio Il suo nonno Aveva la trattoria Dalle parti di via Trebisonda E lo mandava lui Siamo fra le due guerre Al mattino A raccogliere il prebougiù In via Zara Vicino negli orti Dove c'erano le vacche Eccetera Perché La domenica Facevano il prebougiù Il bollire ste erbe Perché lunedì mattina Spesso c'era gente Che la domenica Si era caricata E andavano lì A bersi il brodo Di prebougiù Che funzionava Da depuratore Quindi Questa me l'ha raccontata Lui Me l'aveva raccontata Quindi Parliamo di Ci sono testimonianze Autentiche Complimenti Per il tuo lavoro E in bocca al lupo Perché poi Tra le altre cose Lui vive Di questo Sì sì Io mi sono costruito Un lavoro Come erborista Ma erborista Non con il negozio Ma sul territorio Divulgazione Esatto Molta divulgazione E poi Con laboratori Corsi E vari incontri Sì sì Grazie davvero Dopo la pausa Dopo mercato Frutti, verdure Pansotti Prebougiù Precinsuè Non sono ancora finite Le sorprese da queste parti No Ci sono ancora due belle cose Una di carattere sportivo E l'altra di carattere artistico Vedremo Da dove partiremo State con noi Grazie Grazie Grazie